Ponti primaverili affollati ma non per gli alberghi. I dati, ancora parziali, sono stati raccolti in via informale dal presidente degli albergatori del Levante, Aldo Verdin, che nel cuore del ponte del 25 aprile conferma che ristoranti e negozi hanno accusato il colpo positivamente, ma non altrettanto gli alberghi. Sulla Bagna alla fine chiuderanno benino questo mese di aprile. Su Chiavari non è andato così bene, è andato malino. Sestri il mese di aprile lo pareggia perché ha perso parecchio sotto la Pasqua, però aveva guadagnato qualcosa nella prima parte di aprile. A Rapallo e San Margarito purtroppo i dati sono negativi. I motivi sono tanti e molto ampi da analizzare. Senza dubbio la crisi ha influito sulla durata dei soggiorni e sulle notti che si spendono in albergo, ma oltre a questo c'è l'evoluzione del comparto verso una preferenza netta per le case vacanza da affittare anche per periodi brevi. Se andiamo a vedere le strade sono piene, i ristoranti sono pieni magari, perché c'è della gente. Se andiamo a fare l'analisi solamente nel settore alberghiero, lì troviamo la crisi. Ma non da adesso, già da qualche anno, da un paio d'anni sicuramente. Le conseguenze sono principalmente due secondo il presidente degli albergatori. Da un lato una minore possibilità di investimento, dall'altro una più esigua capacità di ricaduto occupazionale. Sempre più spesso, se gli albergatori cominciano a stare in crisi, danno in esterno il servizio che prima seguivano loro dall'interno. Sicuramente questo fa perdere l'appeal sul prodotto, perché il servizio decade un po'. E c'è anche un problema di occupazione, perché molte volte sono lavori in nero, sono delle cooperative che sfruttano tra virgolette i lavoratori, eccetera. Quindi deve anche un po' tutto dell'immagine.